allora ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video mi strucco con voi lo so che vi siete stufate da scantare ma io non ne posso fare a meno e perciò mi strucco allora innanzitutto aspetta un attimo che qui voglio ok ho tolto la notifica altrimenti non riesco a registrare e mi arrivano un sacco di notifiche vabbè che ho disattivato il wifi però vabbè allora mi strucco solo con questa e poi vado a detergere tutto con questo ok niente andiamo sperando che non dura troppo questo video ora mi vado a struccare il primo è andato come potete venire bello la storia Ok, ebbè non ce la sto facendo, va a sdruccarmi, sì. Ok, poi adesso l'altro. Quanto l'ho ottenuto più di qualche ora, fino alle 9 di sera lo stavo tenendo sto trucco, adesso è l'ora di rimuovere tutto, eh sì. Ok, se non rimuovo tutto poi sapete come va a finire? Quanto è? Ok, è 3 minuti di video, va bellissimo. Ho mangiato un po' di cilie... no, sì, ci riesce. Ho mangiato stanotte a cena un po' di fave con i piselli, buonissimi, verdurine. Mi sono piaciuti davvero tanto. Molto, molto buoni. Vuoi dire te che ci frega? No, per dire più a voi che ho mangiato davvero tanta roba buona. Oh yeah, ok. Poi, ora vado con questo e torno subito. Nulla ragazza, allora mi ha lavato già i denti perché sennò faccio troppo tardi e mi passa anche la voglia. Comunque sono già bella struccata. Mi vedete quale è per panda nera perché è anche così. Io quando mi strucco diventa così. E poi, allora, adesso con prima cosa ho fatto come ultima cosa. Vado ad utilizzare questo. E' un mineral booster. Mineral booster 89, eccolo qua, della Vichy. Quindi, vedete, mi piace tanto e lo adoro. Tanto per cominciare, scusate. Allora, vi dicevo. Vi dicevo che ho utilizzato questo per sciacquare tutto il viso e niente, mi piace e ve lo consiglio perché è buono. E rinfresca tutto il viso. Già. Non vuole stare a fermo al telefono. Allora, adesso vado ad utilizzare questo. Qui. E' nulla. Mi metto solo un pump da tutte le parti. Questo qua. Questo qua. E poi vado, ovviamente, a rubare le mani. E sono pronta per dormire. Ok. Quanto ho superato? Di minuti? Cinque minuti? Va male. A me è un profumo questo. Anzi. Anzi, che non profumo per niente. Però mi sta per lo stesso. Importante che facciamo una buona azione. Dovrebbe fare senz'altro. E niente. Ragazzi, questo è quanto. Cosa faccio stanotte? Normo. Essendo venuta da dormire. Mi fiorano con mille, ovviamente. Poi mi rilavo i dinti. E poi mi curico. Perché... Perché si ragazze cose che faccio la notte. Quando non sono, faccio la notta... La notta. No. La nottambula. Che mi guardo i video su YouTube. Quando non sono. E poi faccio le giochiccricci di nuovo. E poi mi ria, tormento. E... Ovviamente. Dormo. Come è giusto che sia. Però sinceramente non lo so. Ok? Ora mi lavo le mani e torno. E niente. Ragazzi. Questo è quanto. Io vi lascio. Ci vediamo al prossimo video. Buonanotte a tutte. Ciao. È stato un piacere. Ciao.